Bene amici, nei commenti quotidianamente ci confrontiamo sull'indecenza degli importi dei trattamenti di invalidità civile e sulla difficoltà anche per il 100% di ottenere il famoso incremento al milione visti gli stringenti limiti reddituali. Oggi vediamo invece come sia possibile, sempre nel rispetto di determinati requisiti anagrafico reddituali, portare il proprio assegno mensile a 374 euro o addirittura tra virgolette 460 sia per i parziali che per i totali appunto. Io sono Mr. Lul, vi spiego tutto, sigla, ma mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video e il canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! Allora, i titolari di assegno di invalidità civile da 287 euro mensili hanno diritto al compimento dei 67 anni di età alla trasformazione della pensione di invalidità in assegno sociale sostitutivo. Questa prestazione ammonta in misura fissa a 374,85 euro al mese, maggiorabile però fino a 460,28 euro solo in presenza di determinati requisiti reddituali, come dicevamo nella intro. In pratica l'assegno è concesso sia agli invalidi parziali che rispettino un limite di reddito personale annuo pari a 4.931 sia agli invalidi civili totali, questa volta con limite di reddito a 16.982. Per ottenere invece la maggiorazione pari a 85 euro e 43 mensili e raggiungere così 460,28 euro bisogna rispettare altri limiti tetti di reddito che però cambiano. In caso di pensionato solo 4.873 euro all'anno che diventano 10.856,69 per il pensionato coniugato. Mi raccomando però fatevi sempre guidare e seguire dal vostro CAF patronato di fiducia per verificare appunto il diritto a queste maggiorazioni e così farne richiesta all'Inps tempestivamente e non perderci nemmeno un euro. Detto questo spero che il video sia stato utile, se è così mi raccomando lasciate un bel like per supportare appunto il video e il canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Un saluto a tutti, grazie da Mr. Lul. Grazie a tutti.